tiravo via il motore o i collettori o tiravo via il pannello dietro ai sedini due tappetini originali 580 euro vedo già i collettori smontati sono molto contento poi modalità sport che irrigidisce un po le sospensioni apre un po di quelle fa falle ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente dopo tantissimo tempo siamo tornati qui con la ferrari f4 e 30 in tutto il suo splendore nel vero senso della parola e tra poco capirete perché per registrare l'ultimo episodio della serie angeli a quattro ruote stagione 1 dove abbiamo visto la rinascita di questa auto incredibile negli episodi precedenti di questa serie avete visto quella che è stata l'avventura insieme a questo pezzo della storia italiana l'acquisto in germania quindi ho trovato la macchina sono andato a vederla l'ho controllata l'ho provata vi ho svelato i trucchi della ferrari f4 30 dopodiché l'ho portata a casa piano piano senza fare danni e qui in italia insieme a mario abbiamo scoperto quello che non andava e lo abbiamo sistemato abbiamo cambiato l'alternatore abbiamo fatto un bel tagliandone sistemato una guarnizione di un collettore cambiato lo scarico e fatto tantissime altre cose ho fatto da allora altri piccoli accorgimenti che vedremo nel dettaglio che hanno reso la macchina quasi perfetta perché vi quasi perché manca un'ultima parte che adesso vi faccio vedere ovviamente cambiando reparto troviamo un altro mario come già ben sapete che farà ciao farà oggi l'ultima parte l'ultimo tassello di questo puzzle che mi mette sempre a dura prova perché angelo mi porta e dice sempre sono perfette sono belle poi quando mettiamo mano e viene fuori risultati sono un po' stronzo perché ovviamente devo tirare un po' l'acqua nel mio mulino comunque quello che mancava su quest'auto per renderla degna del nome che porta quindi ferrari era riportarla alle origini riportarla alle origini ovvero un bel trattamento interno ed esterno interno ed esterno che stiamo utilizzando i prodotti nuovi labo cosmetica con il famoso nuovo pad scrub in esclusiva non ho capito niente di quello che stai dicendo ma adesso te lo lascerò dire nel dettaglio io vedo già che hai fatto delle lavorazioni perché da ignorante vedo già che la macchina sta cambiando aspetto e tutto ciò secondo me renderà veramente figa e accattivante questa macchina sarà uno spettacolo da vedere quindi adesso mi sposto e facciamo vedere qualcosina qualche piccolo trucco qualche piccola hack e qualche prima e dopo di quello che tu hai fatto su questa macchina quindi secondo me ci sarà da godere andiamo avanti sono meno tardi quindi mi dicevi che hai fatto più lavorazioni esterne ed interne sulla macchina spiegaci nel dettaglio che cosa ha intenzione di fare cosa hai già fatto allora visto che la macchina ha già la sua età ruota del genere quindi ho applicato tre step di lucidatura per togliere tutti gli swirl tutti i segni portati dal tempo lavaggi errati sassi pietre cose del genere e in finale applicheremo uno strato di nano ceramico idrorepellente idrofobico sembra complicato e costoso anche esatto molto tempo di lucidatura molto tempo di lavoro e facci vedere il risultato finale sarà molto il prodotto quindi oggi ci spiegherà e vedremo anche in sovraimpressione le lavorazioni sul canale di angelo nero qui dove siamo ricordiamo san giovanni sì ma il posto l'officina numero uno di angelo nero numero uno perché ne aprirò anche altri va bene quindi come dicevo prima andremo applicare lo strato finale che di protezione sulla carrozzeria che è un idrofobico ok nano ceramico però prima di applicare questo va fatta tutta la procedura di lucidatura che sarebbe i tre step di lucidatura un compound molto aggressivo abbinato al suo tampone azzurro ok la cosmetica li fa tutti abbinati con i vari colori poi abbiamo usato le ale che è un medio e infine abbiamo utilizzato fiero che è quello di finitura quindi vanno messi uno dopo l'altro vanno messi uno dopo l'altro con un suo ordine infine metti sta cosa qua nella scatola di ferro qua questa roba costa soldi questa roba qua infine si metterò questo sembra una roba tipo scienziati prodottino qua hpc scusami quante boccette vanno per fare la macchina una boccetta usato in maniera corretta nel senso che non va abbondato oppure sovrapposto quando si fa la linea tipo metacofano non va sovrapposto per non creare aloni ok la boccettina basta per tutta la vettura siamo giusti per questa vettura qua questa piccola così questa piccola così c'è anche la più piccolina ma è la più piccolina non va bene per vetture di dimensioni incredibile io non ci farei neanche il cofano con questo tipo no 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 questa qui adesso c'è la sua spugnetina vi farò vedere come viene applicato e il risultato finale di quando va a contatto con l'acqua con lo sporco la macchina rimane molto più pulita e soprattutto quando vai a rilavarla non ha problemi di materiale attaccato oppure si va a creare danni quando si va a lavare con le spugne che normalmente anche per la procedura di lavaggio va seguito un certo criterio cose che non si usa mai macchina sporca una spugna unica che si parte da sotto sopra un secchio solo con lo shampoo magari del giorno prima lavata la macchina dalla nonna e quindi poi si presentano qua e dicono come ho fatto a graffiarla ho usato la spugna nuova no la spugna nuova va lavata domanda per poi passare all'interno quanto tempo ci vuole teoricamente per fare dall'inizio alla fine quello di cui stai parlando allora compresa la lucidatura si compresa la lucidatura fatta così visto diciamo la particolare della macchina con tanti inserti tanti tanti spigoli soprattutto tanti spigoli bisogna stare molto attenti quando si passa le lucidatrici se no si va a scoprire all'incirca un tre giorni e calcolare che per stendere questo qua in maniera corretta aspettando che faccia la sua diciamo adesione ci vanno circa quattro ore solo per questo se si facesse la doppia applicazione nel senso di un sigillante vernice che sarebbe sem questo viene dato prima e sopra si chiude con questo quindi all'incirca ci vanno sei sette ore per fare il completo e vanno messi e sopra sovrapposti l'uno all'altro con distanza massimo di due ore se no questo non fa più adesione Ho capito perché stai chiuso dei giorni qua dentro quindi fare cose le ore passano anche perché per fare solo il montante qua con la lucidatrice deve stare molto attenti e sigillare che adesso non si vede nel video ma abbiamo a coprire tutte le guarnizioni e tutto quello che non deve essere a contatto con le passe se no si rovinano questo era quello che serviva solo per l'esterno solo per l'esterno adesso direi che voglio vedere anche l'interno si quindi va beh stavo dicendo quindi puliamo gli interni puliamo gli interni cosa stai facendo adesso abbiamo utilizzato stiamo utilizzando derma che è specifico per la pelle quindi adesso verrà allargato col pennello per diciamo ammorbidire lo sporco e poi useremo lo scrub lo scrub il tampone scrub è un prodotto è la mia ragazza dice stefanati qua è un prodotto nuovo che viene utilizzato che porta via proprio sporco ma perché viene rosso sì perché sono evidente superficiale macchiato e non è mai stato lavato il sedile si vede che proprio il prodotto viene utilizzato sui sedili in pelle che sia nero qualsiasi colore però attiri via tutto quello che c'è sopra sporco sporco di pantaloni sai che una delle cose principali per cui ho cercato questa macchina era all'interno full rosso che ad alcuni piace a tanti no perché il cruscotto rosso che è molto raro da trovare dicono che rifletta un po' nel parabrezza però l'effetto secondo me è bellissimo quello che io sto vedendo in questo momento è che in realtà non ho mai visto il vero rosso che dovrebbe essere qui dentro è molto più rosso acceso quello che tu hai pulito rispetto a quello di prima che ti dico non sembrava sporchissimo a vederlo qui c'è anche il discorso anni di sole mai trattato mai pulito però sta tornando perfetto e quindi io vedo anche da qua qui hai già fatto questa è la parte trattata cioè questo è finito o devi dare ancora qualcosa quella è finita quindi si può anche togliere non so se si capisce perché poi dalla telecamera è un po più complesso ma questo ha un colore totalmente diverso da questo cioè questo era già bello per amore di dio devi ancora finire questi questi sono ancora da fare tutto va bene però questo è bello rosso bello acceso ed è opaco cioè è opaco rispetto a questo che è lucido riflette la luce allora tutte le pelli sono opache non c'è la pelle lucida quindi quando una pelle è lucida non è perché è pulita ma perché è sporca è il contrario infatti tante volte quando le macchine nere vedi il sedile è lucido è pulito è contrario è lucido perché è sporco adesso se guardi la differenza che adesso dovremmo dare il sigillante sopra che protettivo protettivo che quindi è un antimacchia che sai pantaloni rovesci qualcosa e quindi va a ammorbidire la pelle non si sa mai non rovescio niente quindi andiamo a dare il protettivo quanto dura questo protettivo all'incirca un sei mesi ma cavolo durano parecchi questi prodotti però c'è un lavoro complicato costoso e tutto però dura non è che dura una settimana anche perché poi la manutenzione è più veloce quando il prodotto trattato assoluto come la carrozzeria fuori è più veloce da lavare perché non hai agenti aggressivi che si agganciano al tessuto quindi anche da lavare più facile anche da lavare più facile va bene l'ultima cosa che ti chiedo e poi passiamo alla fase finale è se possiamo fare qualcosa per il carbonio il carbonio lo lucidiamo ok facciamo gli stessi step che vengono fatti sulla sulla vernice esterna sulla carrozzeria uguale sempre tre step perché è molto rigato e andremo poi trattarlo sempre con il discorso del protettivo col ceramico anche lì sopra che figata quindi alla fine verrà bello lucido lucido come la carrozzeria viene fatta tutta la parte interna anche tutta la parte nera che è sempre vernice come l'esterno che se noti vedi la differenza tra la parte lucidata e la parte ancora da lucidata si vede già dal risultato che sta cambiando veramente faccia anche il carbonio c'è anche il cerchio trattato è non solo la carrozzeria abbiamo fatto tutto completo lo stesso trattamento anche sul cerchio perché non si attacca allo sporco lo sporco delle diciamo pastiglie dei freni anche se abbiamo il carboceramico si sporca molto meno però tutto lo sporco stradale si attacca sui cerchi quindi così il cerchio è protetto e rimane pulito e non dimenticarti del lavoro che mi hai fatto fare sul lavoro qua del motore il valo motore che era inguardabile non so se ti ricordi com'era il valo motore tutta una roba perché c'era ricordiamoci nel video precedente abbiamo visto lo scarico era segnato quindi usciva la lana di roccia si era tutto riempito di un casino e tu l'hai riportato al suo splendore e anche dietro le paratie avevamo pulito tutto è stato fatto un lavoro ancora da terminare così non è finito questo motore mi appoggio sul panno perché sono bravo sempre toccato col panno sono lo sgrido è un'opera d'arte questo motore direi di sì è ancora da finire qualche particolare di nero c'è ancora da lavorarci un paio d'ore però diciamo che l'85% è fatto scarico niente da dire va bene mario ti ringrazio per il tuo tempo per il tuo lavoro adesso passiamo anzi iscrivetevi al canale mi dimentico sempre vi ricordo che vi dovete iscrivere al canale mettere like al video perché se volete vedere la prossima stagione di angile quattro ruote vi dovete iscrivere e soprattutto venite su instagram sia sulla pagina personale che su quella dell'officina dove trovate i contatti ovvero il numero di telefono per contattarci e portarci a anche le vostre macchine i vostri progetti le vostre elaborazioni eccetera bene detto questo ci vediamo direttamente dall'altra parte per vedere le ultime novità aspetta un attimo non scappare perché ti ho parlato di trattamento hai visto bocettino hai visto i lavori hai visto le cose però devo farti vedere il risultato finale sulla carrozzeria perché non è come tanti vedono su youtube che è fotomontaggio no adesso ti faccio vedere il risultato in diretta cosa fa un idrofobico sulla vettura vediamo allora se tutti i passaggi sono stati fatti correttamente non fatti così giusto per nome o fantasia o leggere questo è il risultato che puoi ottenere a vettura finita figata ecco puoi toccare con mano è asciutta la macchina la macchina asciutta è impossibile posso provare io scusa prova non si attacca niente ma com'è possibile sta cosa e quanto dura sta cosa qua adesso all'incirca due anni vanno fatti poi i successivi lavaggi ad esempio sempre con i prodotti specifici per la manutenzione ma il risultato è questo figata figata figh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua ragazzi, ho colto l'occasione, mentre facevo manovra, di farvi sentire la sinfonia di questo V8 Ferrari. 8 cilindri Ferrari, 8 cilindri Ferrari, che adesso non ci sono più perché hanno fatto un 6 cilindri sovradimentato. Quindi questa insieme alla 458 è l'ultima Ferrari aspirata V8 che purtroppo sentiremo nella nostra generazione. Voglio farvi vedere le ultime cose, le ultime modifiche che ho fatto e soprattutto spiegarvi cosa manca e perché sto facendo questo video. Come potete vedere rispetto agli altri video abbiamo allargato la carreggiata al momento con dei distanziali fatti appositamente per lei, portando a filo le ruote rendendole veramente strafighe. Ho montato delle nuove Pirelli sia davanti che dietro perché le gomme vecchie avevano tipo 11 anni e dopo siamo andati ad abbassare l'assetto di 5 centimetri tramite gli ammortizzatori originali rendendo la silhouette di questa macchina secondo me perfetta al posteriore e anche all'anteriore, è molto più figa rispetto a prima. Le ultime cose che mancano sono il lip in carbonio anteriore che sto aspettando, dovrebbe arrivare, molto bello, ci farò un video quando arriva. E a proposito voglio chiedervi una cosa, siccome ho fatto fare, anzi sono già stati fatti e sono già in magazzino, i test pipe per eliminare i catalizzatori, quindi fare lo scarico completamente dritto, vi chiedo, cosa ne pensate se diamo via ad un altro format e facciamo dei video pur sound? Per chi non sapesse i video pur sound sono dei video dove si prova e si guida la macchina senza fronzoli, senza parlare soltanto con il sottofondo della macchina, quindi scarichi e rumore del motore del cambio e basta, senza parole, senza recensioni, niente, magari di pochi minuti ma riprese interne e esterne della macchina dove vi godete e quale auto migliore per iniziare questa serie, a parte le Skyline, che non un V8 aspirato completamente libero installando il resto dello scarico. Secondo me ci sta. Cosa manca per mettere in strada questa macchina? Le targhe. Per le targhe come funziona su questo tipo di auto? Non è come un'auto comune, come un'auto classica, come può essere un Audi, come può essere una Fiat, ma ha una procedura tutta sua. Tutte le auto importate, supercar specialmente, ma Ferrari in questo caso, perché con Lamborghini la procedura è simile, ma molto più semplice, necessitano di una scheda tecnica che va fornita direttamente dalla casa costruttrice, quindi in questo caso da Ferrari. Su un'auto normale di solito si richiede, anche su Lamborghini, si richiede, ha un costo che può variare dai 150 ai 350 euro, mentre invece su supercar, come ad esempio Lamborghini, che ho appena targato un paio di settimane fa, la Gallardo, costa tantissimo, circa 2000 euro, però la richiedo e mi arriva. Due o tre settimane, dopo aver fatto il bonifico, riceviamo la scheda tecnica e con quella in motorizzazione poi possiamo iniziare le pratiche e targare l'auto. Ferrari no. Ebbene sì ragazzi, perché Ferrari non ci dà la scheda tecnica se noi la chiediamo, anche se paghiamo non ce la dà. Perché direte voi? Perché Ferrari vuole vedere la macchina. Quindi adesso io, dopo aver finalmente finito la macchina, dopo sette mesi, otto mesi che ci lavoro, devo prendere questa bellissima automobile, portarla in un centro ufficiale, in un concessionario ufficiale Ferrari, dove loro verificheranno che tutta la vettura sia coeva con quello che devono dichiarare sulla scheda tecnica, ovvero che ad esempio i numeri del motore corrispondano al telaio, che ci siano tutti i pezzi, che sia tutta in ordine, che non sia cidentata, eccetera eccetera. E poi rilasceranno, dopo aver pagato anche lì mi pare un paio di migliaia di euro, la scheda tecnica dopo un paio di settimane. Controlleranno, ad esempio, anche che la vettura sia stata regolarmente acquistata, faranno il passaggio del telaio, faranno delle foto dentro o fuori, tireranno via il fondo, controlleranno sotto, cioè per registrare tutto quello che è avvenuto nella vita di questa macchina. È una cosa veramente incredibile che solo Ferrari chiede, ed è un po' una rottura di scatoline, perché purtroppo ci fa perdere tempo e ritardare le targhe. Una volta che le targhe sono poi arrivate, le attacchiamo sulla macchina e siamo a posto. Quindi, detto questo, godetevi il risultato finale, godetevi tutto questo video, riguardatevelo cinque volte e soprattutto fatelo vedere a vostra zia, perché vostra zia è sicuramente interessata a vedere l'evoluzione di questa F430, l'ultimo aspirato, il penultimo, scusate, e poi ricordatevi che da oggi in poi, che vedrete questo video o tra poco, ci sarà l'annuncio online sulle maggiori piattaforme di vendita di questa Ferrari F430 che è pronta per essere acquistata da chiunque lo voglia, da chiunque se lo merita, da chiunque lo voglia, perché è veramente una macchina pazzesca e sono contento di aver iniziato la serie Angele a quattro ruote con questo mezzo incredibile. Grazie ragazzi, è anche merito vostro. Allora Mario, la serie è giunta al termine, sei pronto per la nuova stagione? La macchina è già qua fuori, te la faccio vedere. Vado? 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 Vado?